Buongiorno A Tulemond Si parte voi cazzo Si parte voi cazzo Visto? O no Solo a guarda No, io voglio a guarda Bene, bene Pesca dalle montagne russie Pestiamo bello Quello ti fai tronco Arrivi in cima e lanci Ah E poi lo trai nella cascata Pesca un musti Rigoli San Juliano 3 San Rossore Non ho capito che c'è in sale 25 Vedi 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 Arrivati Buongiorno Arrivati la peschiera del Garda Eh? Si Bene Si fesca Oggi si pesca Oggi Si Anche oggi Domani Gardaland Domani l'altro Gardaland Dovedì si pesca E poi si torna a Casina Forse Allola Siccome siamo arrivati Sono tipo le 10 Si mangia tra un paio d'ore Si prova subito qui Nel canale Appena fuori Appena fuori dalla stazione Che dovrebbe buttare sul lago poi E si prova Allora via Giù Eeeh I figli Ecco Volevo dirlo io Belli sono Buongiorgio E tu c'è un ciuffo di insalata in bocca? E' vegano? E' vegano? Eh Lui no C'è anche il No Vi andiamo a prendere un pesce Basta Papere Uccelli Basta Si ho le pesci Eccoci I pesci Ci sono C'è un monte di arredani grossi E si è anche visto un bus Discreto Parecchio discreto E quindi insomma Si prova tanto Siamo qui a posto Un tre Un pezzi Lo fai Ha preso un bus Sì Uuu Ma che poter ternare? Si La mano La mano Viene Faccio vedere Uhhh Quanto è andato E arrivederci Viene più delante al loro Si Non è Mi! Tu fai una cosa! Mi! Quanto pensai? Eh, un secondo! Non ce l'affoca con la mano sola Questo mi dà la bocca Il camion non casca e non si fa male Rilascio? Si Arrivederlo signori buon lavoro ottimo ottimo per ora siamo a un basso sembra di pescare in mare pausa bagno un cavetano incredibile dopo cent'anni dal primo bassettino un cavetano ci ringrazio bene buongiorgio complimenti se hai due pesci io a zero un altro cavetano subito hai trovato il branco si trovo la buca di cavetano e passi a tre pesci io sempre a zero non va tanto bene qui complimenti grazie ho preso un altro ed è anche bello questo qui ne inizio a prendere troppi i miei gusti nonno zio ora mi so che la metti il rapalino anche a me ora mi vola tutto via su faccio vedi bello questo è bello questo inizia a essere veloce si buongiorno buongiorno anche a lei signore vorrei sì che vedano bello questo è bello e è poco più lungo sì sì ancora un quarantino questo è bello gianna che lei mi dica è interessato a qualcosa in particolare ecco un altro finalmente ho preso il mio primo pesce a guarda land bravo bambino ottimo la pottimo piccolo brecchè al barrino io voglio un tirolese quanti avete preso? e quanti bassi hai preso? uno quanti avete preso? uno quanti avete preso? zero bene siamo andati verso il campeggio più vicino al campeggio con i busse con la E in fondo mi raccomando arrivati qui bene qui lui ha fatto il lancio ha preso un bassettino l'ha slamato allora per affrontare meglio le catture per evitare di slamarle ci si fa due o tre gotti d'acqua si beve un po' d'acqua ecco diciamo in italiano perchè se non so c'è bohdi bohdi al prossimo bass al prossimo al prossimo dopo la ricarica d'acqua si riparte a pescare nel nuovo nella nuova location e si guarda il che si fa eccolo basse ragazzi basse in diretta basse in diretta basse in diretta e cantarò bene 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 questo è del fuoco in diretta non è più in diretta ah ma gli andavo nell'acqua sono quasi le sei non so che sono così le sei ti sei preso quanti pesci io tre lui tre io cinque quindi si è preso otto pesci quattro cavetani e quattro basse no tre basse non bisogna te ne metti due ah te uno solo? no gli altri ha slamato quindi cinque cavetani e tre basse un altro bassettino sempre piccini e sempre piccolini però dai ciao però me l'abbiamo dietro anche quello più veloce e vabbè bassettino un altro perfetto no perfetto bassettino ino 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 e ora si pigia un attimo vai adesso fa così ho preso un sole per fuori come cazzo ah no nemmeno l'ho preso ti sei attaccato no no si l'ho preso solo per fuori però ahhh c'è 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 lui io io sono vivo ma morto ho le braccia sono brutte ma tu mi spavano così mi metti alla difesa però eh 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 ma tu sei seduto sulla handa eh tu sei seduto sulla handa oh porca parola speriamo di avere la rotta si pensi siamo arrivati alle 10 con lo zaino con tutti i vestiti lenzuoli i cazzi mazzi la borsa per pescare la canna e non ci siamo fermati in un secondo sono morto io non ce la faccio più comunque nel caso non si prenda nulla dimmi va bene fai il riassunto ai ragazzi e poi non si prendesse niente faccio il riassunto allora cinque cavetani vabbè diversi cavetani non enormi uno per l'oggi uno per l'oggi diversi passettini piccini tra i quindici e i venti centini e poi io ne ho slamato uno discreto come sempre figurati se non lo slami godi solo a metà quando si vede da poco la faccia di uno che godi solo a metà buonanotte buongiorno buongiorno allora racconti sono le sei e ovviamente prima di andare a Gardaland si va a pescare i bassi mi pare più che giusto no? e il secondo giorno ieri siamo arrivati appena arrivati siamo stati tutti i giorni a pescare ovviamente siamo distrutti e oggi si si oh cazzo che cosa c'è? e non so mi sono sempre a cucciare e oggi si si sveglia alle sei sono le sei si va a pescare e poi si va a Gardaland mi pare un'ottima e si vede still il lago come sempre preso subito ragazzi subito al primo lancio e ce n'era uno anche dietro magico la sveglia alle sei alle quarta alle sei ha funzionato ragazzi ieri non c'era verso di pigliarne uno decente perché c'era solo quelli piccini a giro davvero oggi siamo svegliati apposta prima di andare a Gardaland ed eccolo lì primo lancio primo lancio ragazzi e primo pesce di Gardaland decente bello 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 complimenta eh grazie vediamo di fare il pesto anzi no questo non si può dire vediamo di pigliarne altri ciao ciao bello bello oh bello 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 come il tuo primo discreto ciao bollo bollo lui e qui mi ispirava troppo ho levato la gomma ha detto qui con questo venticello da spinner un altro passettino con lo spin morto body body due a testa natima Ottimo lavoro Allora volevo due di peste Poi tu te la portare via Due brinocci al cioccolato E' una vuota vero? No Ah è una peste Ok, una arma Ok, passo così Grazie Grazie Ciao Ciao Grazie Porca rabia, meno male se è finito Ciao 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 Ciao